Ciao e benvenuti in un nuovo video locations sul mio canale, sono a Lucca Comics ma tutti guardano i cosplay, guardate io cosa vedo Palazzo Fanner, che è la location di un film. Sapete dirmi di che film si tratta? Stiamo parlando del Marchese del Grillo con Alberto Sordi, film ambientato nella Roma Papalina ma la villa del film è Palazzo Fanner e si trova a Lucca. La costruzione risale al 1600 e la progettazione del Giardino Barocco è attribuita a Filippo Iuvarra è stato utilizzato anche per le riprese di un altro film, come ad esempio Il ritratto di Signora e ora aspettiamo che apre Cioè ragazzi, guardate che meraviglia e sono stata una dei primi a entrare quindi non dovrebbe esserci molto casino adesso. No, ma che meraviglia! Ciao! E il Marichese del Grillo si affaccia proprio da qui. Ora gli lancio le pigne. Il Marichese del Grillo. 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 Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!